Vieni, Signore Gesù, e sii luce per la Tua Chiesa. Vieni, Signore Gesù, e sii luce per le persone sole. Vieni, Signore Gesù, maging ilaw ka ng aming tahanan. Vieni, Signore Gesù, datang lo Tuhan, Gesù, kepada semua orang dalam kesusahan, dalam hidup hari ini. Amen. Vieni, Signore Gesù, e sii luce per a tutti i misi luce. Vieni, Signore Gesù, e sii luce per le persone sole che sii luce per le persone sole, soprattutto per le mie, Africa. Vieni, Signore Gesù, e sii la luce per le nostre vidi. Vieni, Signore Gesù, che ne sii luce per le persone sole, che ne sii luce per le persone sole, per le mie, Africa. Amen. Vieni, Signore Gesù, e sii luce per le persone sole. Vieni, Signore Gesù, e sii la luce per le persone sole. Vieni, Signore Gesù, e sii luce per il giovane. Vieni, Signore Gesù, sei luce per i misi luce per le persone. Vieni, Signore Gesù, e sii la luce per le persone che vive in guerra. Vieni, Signore Gesù, e sii luce per le persone sole. Vieni, Signore Gesù, e sii luce per il giovane. Merry Christmas to all of you. I wish you the very best in this year. Thank you. Merry Christmas from all of us in Rome, Italia. The classmates here from Gregoriana, Roma. Wishing all of you Merry Christmas. Merry Christmas!